quale a due ecco di nuovo Matteo e Maci il protagonista di oggi, Maci non c'è la farina no no non viene censurato il video Matteo si per cosa i nuovi soliti i protagonisti Paolo presentati non ti sei presentato Paolo diventerai famoso no non si era bene ma è così ecco un amante del rock Mosco Alivostio Giulio aspettiamo che Luigi si incazza non aspettiamo è stato Luigi ecco 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 Giulio quella faccetta è incazzato la faccetta è incazzato non stai mi sembra non mi sembra ma che è un'altra 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 ciao Emi E' intermoniato! Ecco! E cosa fai con Nuzia? Guarda questo, Nuzia! Siete qui che non ti permette! Ah, è vero! Non tieni! Vai! Possiamo una sede! Sancia! Faccia per un video passato! Vai, Giulio! È inquadrato! Porca Giulio! Ecco che è arrivato un gay! Un gay arriva! Da lontano! Oh, ma Angela! E' una puttana di quelle che non c'è! Via! Ehi, pace! Alla Luca Raurentis! Capone! Capone! Un uomo che chiede il nome! Un bambino talmente gay! Ehi, pace! 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 Ma non ti mettere qua! Aio, pace! Dillo, dillo, dillo! Chi? Aiiii! Ehi! Ehi, pace! Ehi, pace! Maggi.